quindi la gestione del cambiamento all'interno dello studio sostanzialmente l'idea è di sviluppare questo tema in tre incontri quello di oggi si focalizza prevalentemente sul discorso della personalità e di come la personalità condiziona i comportamenti il secondo incontro si svilupperà sul tema della vision di studio e di come la vision possa poi essere declinata in un piano di reazione e il terzo si concentrerà prevalentemente sull'aspetto della misurazione del valore creato all'interno dello studio quindi queste sono le tre fasi che verranno sviluppate su questo tema da un punto di vista di cambiamento appunto quando parliamo di cambiamento di fatto parliamo di apprendimento e spesso quando parliamo di apprendimento abbiamo ben presente questo tipo di apprendimento cioè quello di un insegnante, di un trainer, di un consulente che in qualche modo risolve o presenta un certo tipo di soluzione come vedi qua c'è un punto esclamativo che si ripete a seconda dei soggetti questo tipo di apprendimento ha una definizione quella di essere un apprendimento filogenetico sostanzialmente in cosa consiste questo apprendimento filogenetico? Consiste nel fatto che attraverso l'esperienza gli odontogliatri che comunque hanno sviluppato dei protocolli di lavoro hanno l'opportunità di condividere la soluzione a una serie di problemi e questa soluzione è praticamente uguale per tutti il termine tecnico è quello di istruzione che tra l'altro ha una derivazione latina che è quella di instruere o struere che è quello di costruire e mettere per strati cioè praticamente è una conoscenza che si aggiunge a strati ed è l'apprendimento che noi conosciamo a questo tipo di apprendimento di fatto si affianca un altro tipo di apprendimento di tipo ontogenetico cioè un apprendimento che nasce dalla conoscenza di se stessi in questo caso come vedi c'è un punto interrogativo quindi c'è una domanda e in base alla domanda praticamente ci sono diverse risposte queste risposte sono tanto diverse quante sono le persone che ascoltano questa domanda perché evidentemente questa domanda va a scavare su quella che poi è la personalità della persona e qui parliamo di educare anche qui dal latino exducere cioè tirare praticamente fuori sono i due approcci che veniamo appunto a sviluppare e noi ci concentreremo praticamente specificamente su questo aspetto dell'educazione e quali sono le domande le domande che in qualche modo poniamo attraverso delle semplici domande tipo chi sei chi potresti essere cosa stai facendo sono delle domande che erroneamente si pensa essere in qualche modo legate ad una ad una età anagrafica che è quella dell'adolescenza no ma in realtà queste domande che sono un pochettino più esistenziali noi le ritroviamo quando ci troviamo di fronte a a fare delle scelte a fare delle scelte che quindi mettono un po' in discussione la visione che noi abbiamo della realtà e quali sono praticamente le scelte che in questo momento sostanzialmente sono di fronte al professionista le scelte sono quelle appunto per esempio di avere uno studio monoprofessionale piuttosto che non passare ad una srl odontogliatrica una scelta di lavorare come dentista generico verso magari una maggiore specializzazione scegliere di gestire le convenzioni all'interno dello studio oppure il passaggio da analogico verso digitale ecco in tutte queste scelte di fatto interviene un aspetto che è legato sostanzialmente alla alla visione e alla all'essenza della 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 persona e quindi quello che vuole portare queste tre giornate vuole portare a casa come diciamo come risultato è quello di mettere in condizione chi parteciperà a questi tre incontri di mettere a fuoco una visione di studio per poter sviluppare poi un piano di azione specifico quindi diverso ciascuno per la propria esperienza quindi costruito sulla visione dello studio e supportato da un approccio che è appunto un approccio di coaching quindi non è un approccio consulenziale o di formazione ma è un approccio che sostanzialmente parla e passa attraverso le domande noi sappiamo che il termine coaching che è un termine che deriva sostanzialmente dall'attività sportiva il coach nel caso specifico è un allenatore però è un allenatore delle elementi quindi quali sono le mie competenze in quale modo per quale modo io sono in grado di poter affrontare con voi questi discorsi innanzitutto perché dal 2002 mi occupo di trasferimento tecnologico all'interno degli studi odontogliatrici e quindi in questi 20 anni di esperienza che mi hanno visto impegnato prima nel laser poi nella chirurgia nell'implantoprotesi computer assistita prima con il Simplant e poi adesso con il Navident ho avuto un osservatorio abbastanza favorevole nell' appunto osservare come la tecnologia viene poi implementata all'interno degli studi e quindi attraverso queste osservazioni ho maturato un interesse legato all'attività di coaching quindi all'allenamento mentale che mi ha portato ad essere poi associato dell'associazione professionale nazionale del coaching e quindi di affrontare questi temi e di presentarveli in queste sessioni noi ci troviamo oggi facciamo quindi adesso un po' un escursus su quella che è la realtà attuale in una situazione che appunto è stata definita da un certo Klaus Schwab che è il fondatore del World Economic Forum come la quarta rivoluzione industriale in cosa consiste questa quarta rivoluzione industriale consiste nel fatto che appunto la rivoluzione iniziata con l'invenzione della macchina a vapore poi con l'invenzione del motore termico del motore elettrico del computing quindi della fase attuale che è quella appunto del cosiddetta internet delle cose sostanzialmente qual è l'aspetto importante di questa quarta rivoluzione l'aspetto importante è che le rivoluzioni precedenti sostanzialmente vedevano la presenza dell'uomo quindi nella invenzione del motore termico piuttosto che nell'uso del computer l'uomo gioca un ruolo importante noi ci troviamo in un passaggio epocale dove la figura dell'uomo di fatto è in qualche modo può essere assente grazie appunto alla robotica che ha acquistato una rilevanza e delle capacità davvero davvero eccezionali in questo senso io voglio mostrarvi un video che vi dà un po' la dimensione di quella che è la situazione della robotica oggi questa è un video di una società americana che è la Boston Dynamics e un video di un Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 poliziotti uno psichiatra uno psicologo e un infermiere questa barzelletta ci dà un po' la dimensione di quello che in qualche modo è un po' il rischio della tecnologia che è quello di portare diciamo la persona al di fuori di quella che è una realtà come dire potenzialmente logico e razionale e quindi in questo senso occorre valutare la tecnologia in modo critico per poi valutarne quelli che poi sono gli effetti concreti nella realtà quotidiana e soprattutto in una realtà professionale allora quindi come fare come fare a fare questo tipo di operazione è evidente che accanto all'aspetto tecnologico c'è un altro aspetto che è quello legato alle persone quindi legato al modo con cui le persone pensano e interagiscono e quindi questo aspetto più umanistico va sicuramente preso in considerazione ed è quello che noi faremo durante l'incontro di oggi attraverso appunto una riflessione praticamente una riflessione di quello che andremo sostanzialmente andremo sostanzialmente a fare ora quando parliamo appunto dell'aspetto legato alla persona le ghia parliamo sostanzialmente della del fatto che la tecnologia e quindi qualsiasi tipo di cambiamento ha in sé una componente caotica e quindi eh lo lo sforzo poi della del professionista è quello poi di trasformare e declinare questa condizione caotica in una condizione invece ordinata e come può farle questo questo processo questo processo lo fa appunto attraverso l'apprendimento attraverso un processo che lo aiuta a rendersi a rendere eh appunto maggiore consapevolezza di quello che è la complessità e trasformare questa complessità in qualche cosa di intellegibile qui vediamo alcune immagini che ci fanno un po eh capire come il caos e l'ordine eh sono in qualche modo presenti eh nella nostra vita quotidiana e come evidentemente si cerca in ogni modo di uscire dal caos eh per trovare una dimensione ordinata ma e comunque il caos ha in sé un potenziale eh importante che è appunto legato alla creatività e quindi alla possibilità di poter realizzare qualche cosa di nuovo così come dall'altra parte l'ordine che è rappresentato da queste eh questi appartamenti ciascuno con la con il suo giacuzzi eh in qualche modo può vincolare e eh imbrigliare l'aspetto creativo bloccando e eh in in sistemi rigidi alcuni comportamenti per cui quando eh eh quando eh ci troviamo di fronte eh a una una realtà completamente nuova esistono due modelli mentali eh comportamentali che sono fondamentalmente uno legato alla paura e un altro legato alla speranza in sostanza la il comportamento la modalità legata alla paura è quello che in qualche modo ci porta a eh prendere in considerazione una scarsità di risorse economiche e dall'altra parte invece eh alla alla convinzione di avere invece un'abbondanza di risorse economiche così come la paura ci mantiene in una zona di comfort mentre la speranza ci fa uscire da questa zona di comfort la paura rimane eh nella opacità e la speranza è legata invece alla trasparenza la paura eh magari rimane in una dimensione di formazione limitata la speranza è comunque legata ad una formazione continua la paura ha uno scopo individuale la speranza ha uno scopo collettivo queste due modalità di comportamento non è che sono necessariamente una migliore rispetto all'altra possiamo in qualche modo definirla un comportamento conservatore da una parte o liberale dall'altra e vedremo che queste due percezioni possono essere poi declinate anche in tipi psicologici che sono il tipo giudice e il tipo percezione ma queste due modalità comportamentali hanno una una propria logica in una chiave dinamica in quanto evidentemente la realtà e il caos che eh noi siamo chiamati eh a di gestire gestire appunto ci mette nella condizione di poter giocare un ruolo piuttosto che un altro quando però questi comportamenti questi modelli mentali si cristallizzano ecco che allora condizionano eh il nostro modo di vedere le cose e condizionano anche i nostri comportamenti e qui eh vediamo alcune rappresentazioni no di quello che una modalità paura eh può comportare queste sono delle immagini che vi ricordate abbiamo visto quando a marzo eh e aprile dell'anno scorso eh si è creata la paura no? E quindi ha portato le persone nei supermercati a fare incetta vediamo di carta igienica piuttosto che negli stessi momenti una modalità eh che fosse in qualche modo un pochino più di speranza con gli arcobalini che comparivano e addobbavano i balconi eh delle case questo nell'ambito diciamo covid ma lo stesso discorso può essere poi eh presentato anche nel concetto della dell'immigrazione sappiamo che l'immigrazione ehm rappresenta un un elemento eh di eh di diciamo di di rottura rispetto a un equilibrio e quindi da una parte il confine questa è un'immagine di confine con con l'Ungheria quindi una serie di barriere e di chiusura nei confronti dell'immigrazione piuttosto che una una posizione invece di apertura e e di accoglienza quindi queste sono delle modalità eh di innanzitutto di pensiero e poi di comportamento che abbiamo eh e che sono escono istintivamente laddove poi appunto questo tipo di di situazione viene in qualche modo a a crearsi per quale motivo eh appunto ho fatto questa premessa perché fondamentalmente esiste una eh distinzione fondamentale noi siamo pensati siamo portati a pensare a un sistema semplice quando in realtà viviamo all'interno di un sistema complesso quali sono le caratteristiche del sistema semplice il sistema semplice vede che le cose hanno un unico significato e quindi c'è una logica out out cioè se io ho ragione allora tu devi avere necessariamente torto il sistema complesso invece è un sistema per il quale le cose possono avere dei diversi significati e quindi c'è una logica et et quindi se io ho ragione tu puoi anche avere puoi non avere torto quindi queste due eh realtà la semplice e la complessa portano sostanzialmente ad un modo di pensare un modo di di pensare lineare laddove noi pensiamo di vivere all'interno di un sistema semplice piuttosto che un modo di pensare un po' paradossale che quello del sistema complesso e quindi è importante capire e quindi eh affrontare la realtà e capire in che modo eh questo sistema che quello complesso e semplice si si è sviluppato anche nel tempo come lo facciamo lo facciamo attraverso dei concetti e delle idee che ha sviluppato Otto Scharmer Otto Scharmer è un professore della MIT University eh a Boston che ha sviluppato una teoria che è la teoria U dove lui mette in evidenza eh di fatto eh tre dicotomie eh che sono in qualche modo nate da un pensiero dualistico un pensiero lineare e cioè la dicotomia ecologica la dicotomia sociale e quella culturale e eh spirituale. Lui appunto ha identificato tutta una serie di condizioni che in qualche modo sono ormai evidenti e sono comunque di un comune comune eh considerazione che in qualche modo nascono eh da questa da questa modalità di pensiero che è una pensiero di tipo dualistico. Come si è sviluppato e quali sono le caratteristiche che hanno portato a queste dicotomie? Da una parte appunto eh tre settori eh che in qualche modo sono anche hanno anche una collocazione storica eh dove c'è innanzitutto lo statalismo che è il primo settore quindi una componente statale molto forte eh dove appunto prevale eh appunto la la gerarchia e il controllo e quindi c'è una consapevolezza tradizionale e quindi in questo senso più lineare per poi arrivare al secondo settore che possiamo definire quello del liberismo dove entra in gioco il mercato e la competizione e qui è il quel prevale una consapevolezza eh di tipo utilitaristico e quindi di tipo individuale poi c'è il terzo settore che appunto è il settore dove eh compare il concetto di network e di negoziazione quindi la consapevolezza che ci sono più stakeholders e quindi più soggetti coinvolti in un dato fenomeno fino ad arrivare quello che il l'ultimo eh l'ultima fase che Otto Scharmer identifica è quella fase co-creativa cioè dove sostanzialmente si passa da un sistema ego system quindi legato all'individuo a un sistema ecosystem dove c'è una consapevolezza eh di più eh soggetti i quali appunto insieme affrontano e gestiscono le problematiche che vanno in qualche modo affrontate e risolte ed è la modalità con cui Otto Scharmer indica eh la possibilità di gestione di eh di una serie di problemi una serie di problematiche all'interno di un sistema complesso allora la domanda quindi è ok questo in un contesto più generale ma riportandolo concretamente in qualche cosa di eh più eh alla nostra portata possiamo noi identificare un comportamento razionale abbiamo visto che ci sono sistemi semplici sistemi complessi sistemi che eh si concentrano con una modalità eh di tipo utilitaristico piuttosto invece ecosistemi ma si può in qualche modo identificare eh all'interno di quella che è l'attività eh professionale oppure di una persona un comportamento razionale questa è una domanda eh che eh si è posta eh mai più di duemila anni fa Aristotele in quella che eh è stata appunto la la sua eh etica nicomachea il quale appunto sostanzialmente arriva ad una domanda chiave che aiuta poi a sviluppare tutta un'altra serie eh di osservazioni e la domanda è perché sto facendo questo quindi la domanda sul perché io ho intenzione di fare una certo tipo di azione questo è molto importante perché la risposta a questa domanda crea appunto un'intenzione crea uno scopo e attraverso lo scopo si crea un'azione e quindi attraverso l'azione si raggiunge un fine un fine B quindi in sostanza questo modello questo approccio questa mappa logica porta eh la persona a valutare innanzitutto se stessa quindi il perché eh quindi fare un po' il punto della situazione di quella che è la condizione in cui si trova e eh valutare quelle che sono le proprie i propri scopi eh eh le proprie intenzioni per poter poi arrivare a identificare un punto B che rappresenta un punto di arrivo e quindi un piano di azione che porti A direttamente nella posizione di B questa è la mappa logica e quindi sembrerebbe che attraverso questa mappa si possano risolvere tutti i problemi cioè io basta che mi domando il perché delle cose metto a fuoco il mio scopo e sviluppo poi un piano di azione coerente e congruo al raggiungimento di quello scopo ma nella realtà delle cose noi vediamo che eh abbiamo ciascuno di noi ha esperienza di un problema di esecuzione cioè nonostante noi abbiamo fissato un obiettivo uno scopo che può essere dalla dimagrire può essere dalla iscriversi in una palestra che può essere quella di incominciare magari a utilizzare una nuova tecnologia all'interno dello studio noi ci troviamo contrariamente all'approccio eh nicomacheo aristotelico in una situazione dove arriviamo in un punto che è molto diverso rispetto da quello che noi inizialmente c'eravamo posti e quindi la domanda eh che noi ci vogliamo porre in questa prima sessione in questo primo incontro è appunto come sostanzialmente e perché queste condizioni possono in qualche modo generarsi e allora ci aiuta in questo senso un'equazione questa equazione è un'equazione che è stata divulgata ehm divulgata eh da Tim Galway chi è Tim Galway? Tim Galway è il padre del coaching Tim Galway è un famoso coach eh di atleti di tennis che ha scritto un libro che si chiama appunto inner game e praticamente eh Tim Galway si è reso conto allenando eh gli atleti i tennisti che in realtà durante i match di tennis erano due eh le competizioni che in qualche modo si stavano eh eh sviluppando da una parte la competizione contro l'avversario ma c'era una seconda competizione interna al giocatore stesso e infatti lui identifica questa equazione dove P grande sta per prestazione che è uguale a P piccolo meno I dove P piccolo è il potenziale vale a dire il talento vale a dire la conoscenza che in qualche modo permette appunto il raggiungimento di un certo risultato quindi di un certo scopo ma meno I dove I è l'interferenza e l'interferenza in questa chiave in questa lettura non è solo l'interferenza esterna quella cui siamo abituati in quanto magari diamo la responsabilità del non raggiungimento di un certo risultato agli altri quindi a una condizione esterna no qui in questa equazione l'interferenza è interna cioè è sostanzialmente eh il livello di convinzione il livello di motivazione interiore all'atleta che unitamente alla suo potenziale quindi alle sue conoscenze alla sua capacità alla ai suoi talenti porta poi a casa il risultato quindi quello che noi in questo primo incontro faremo noi ci concentreremo su questa I ci concentreremo sulle interferenze interne perché se arriviamo a conoscere queste interferenze interne e a diventarne quindi consapevoli arriveremo sostanzialmente a comprendere come e a migliorare come raggiungere i nostri scopi qui sostanzialmente voglio leggervi un tratto un brano tratto dall'apologia di Socrate di Platone voi sapete appunto Socrate viene accusato di plagiare la gioventù quindi viene incriminato e quindi viene messo a giudizio e quindi c'è questo brano molto interessante dell'apologia di Socrate che si sviluppa in questo modo forse qualcuno potrebbe dirmi ma stando in silenzio e in tranquillità Socrate non saresti capace di vivere dopo che te ne sei andato via da qui la cosa più difficile di tutte e persuadere alcuni di voi proprio di questo se vi decissi che questo significherebbe disubbidire al dio daimon e che questa ragione non sarebbe possibile e per questa ragione non sarebbe possibile che io vivessi in tranquillità voi non mi credereste come se io facessi la mia ironia se poi vi dicessi che il bene più grande per l'uomo e fare ogni giorno ragionamenti sulla virtù e sugli altri argomenti intorno ai quali mi avete ascoltato discutere e sottoporre a esame me stesso e gli altri e che una vita senza ricerche non è degna per l'uomo di essere vissuta ebbene se vi dicessi questo mi credereste ancora di meno invece le cose stanno proprio così come vi dico uomini ma il persuadervi non è cosa facile cioè qui praticamente Socrate parla di un daimon cioè parla di un'essenza che è presente lui ma è presente in tutti gli uomini che lo spinge a fare qualche cosa e che in qualche modo gli dà anche una ragione di esistenza questo è un aspetto che ci ricollega a identificare a cercare di trovare all'interno di noi il nostro daimon la nostra essenza quindi noi possiamo rappresentarci quindi come un iceberg dove c'è una parte che emerge che una parte sotto l'acqua e la parte sotto l'acqua come vedete come sappiamo ha una dimensione importante e beh la parte sott'acqua quella che non è visibile è visibile il comportamento quella che non è visibile sono le strutture che portano poi la persona a comportarsi in un certo modo i suoi le sue convinzioni e anche le sue fonti di ispirazione quello che in qualche modo Socrate chiama daimon una delle caratteristiche appunto dell'essere umano e che noi chiamiamo in modo non corrette non corretto individuo cioè persona indivisibile e attraverso la moderna psicologia noi sappiamo che in realtà l'individuo è in realtà diviso da tanti io quindi ognuno di questi io ha un desiderio e quindi questi io hanno la capacità di dirottare la nostra attenzione verso più direzioni soltanto nella misura in cui riusciamo a cristallizzare una serie di io intorno ad una intenzione allora abbiamo un'opportunità di raggiungere un certo scopo quindi questo diventa diciamo un elemento importante quindi la cristallizzazione di alcuni io verso un lavoro che ci aiuti al raggiungimento di un certo scopo e quindi sostanzialmente arriviamo un po alla tesi di queste tre giornate la tesi di queste tre giornate è che come abbiamo visto anche nell'equazione di Galway sicuramente l'apprendimento filogenetico che passa attraverso l'intelligenza è sicuramente importante perché porta alla conoscenza porta quindi alla capacità ma c'è un altro tipo di apprendimento ontogenetico legato cioè alla propria personalità al proprio modo di vedere le cose che gioca un ruolo molto importante nel raggiungimento degli scopi che noi riteniamo importanti da raggiungere e quindi è importante il ruolo della coscienza nella creare quella consapevolezza dell'interazione che c'è tra intelligenza e personalità e quindi questo tipo di incontro questa sera cercherà di creare all'interno di voi questa consapevolezza la consapevolezza di quello che è la vostra personalità e di come la vostra personalità insieme alla vostra intelligenza vi aiuti nel raggiungimento dei vostri scopi cosa faremo come che cosa utilizzeremo come strumento di lavoro per gestire questo tipo di risultato gestiremo appunto una formula che appunto la formula di gestione del cambiamento che in realtà affronta tre domande il why how e what cioè il perché il come e il che cosa il perché e il come viaggeranno appunto nella messa a punto della missione della missione e della visione di studio e appunto il come sarà la strategia che in qualche modo verrà utilizzata per raggiungere gli obiettivi e quindi raggiungere lo scopo più alto che ci si vuole in qualche modo prefiggere e quindi arrivare a sviluppare un piano di azione che ci aiuti al raggiungimento di questo scopo per poi arrivare ad analizzare il valore generato dalla nostra attività come vedete alla fine di questa parte c'è una freccia che ci riporta di nuovo alla missione e alla visione perché attraverso questo feedback quindi attraverso il feedback di quello che rapporto con la realtà siamo in grado di mettere a fuoco e migliorare anche la nostra visione e la nostra missione questo sarà il la formula appunto la formula gestione del cambiamento che noi andremo a declinare durante queste tre giornate allora partiamo dal contesto ambientale il contesto ambientale lo conoscete meglio di me è un contesto dove il professionista gioca un ruolo che è quello del clinico ma in qualche modo è chiamato a giocare anche un ruolo come dire più manageriale legato alla comunicazione legato alla digitalizzazione e legato alla gestione di fatto lo studio odontogliatrico lo possiamo in qualche modo definire e intendere come una vera e propria micro impresa e questo sostanzialmente in un contesto ambientale potenzialmente molto difficile quindi non solo c'è una complessità a livello gestionale abbiamo visto clinica piuttosto che appunto a livello a livello gestionale e manageriale ma c'è anche una complessità ambientale con una serie di difficoltà legato appunto alla potenziale riduzione del numero delle visite riduzione nel tasso di conversione delle prime visite agli incontri di profilassi post trattamento riduzione dei trattamenti non specialistici la sofferenza nei pagamenti delle prestazioni le obiezioni circa il costo delle prestazioni la riduzione della fidelizzazione dei pazienti quindi questa realtà è una realtà oggettivamente complessa e non semplice che quindi richiede un approccio di pensiero paradossale e non lineare e quindi in questa realtà vediamo che l'ottanta per cento degli studi vivono una zona grigia cioè una zona sostanzialmente di quieto vivere e da questa zona grigia sostanzialmente il rischio è quello di poter arrivare poi ad una zona scura cioè una zona con maggiori rischi quello che noi cerchiamo di capire sostanzialmente e di facilitare a livello diciamo di riflessione è come fare a spostarsi dalla zona grigia o dalla zona scura invece a una zona illuminata una zona in cui abbiamo delle opportunità di successo questo è quello che cerchiamo in qualche modo di la riflessione che cerchiamo di sviluppare attraverso queste slide e qui voglio innanzitutto mostrarvi anche qui un filmato e eccolo qui vediamo un attimo il filmato un attimo il filmato e qui vediamo un attimo il filmato e qui vediamo un attimo il filmato di un attimo il filmato e qui vediamo un attimo il filmato e qui vediamo un attimo il filmato di un attimo il filmato e qui vediamo un attimo il filmato di un attimo il filmato di un attimo il filmato di il filmato di ecco allora questo video io ve l'ho presentato perché appunto sostanzialmente vediamo due due universi l'infinitesimamente grande e l'infinitesimamente piccolo ma in realtà noi abbiamo una conoscenza molto limitata di questi due universi ma in qualche modo la nostra immaginazione ci rappresenta questi due universi come se in qualche modo li conoscessimo abbiamo abbiamo quindi riportando diciamo questo esempio nella realtà più vicino a noi dove vediamo la casa la città la regione lo stato il continente la terra il sistema solare la via lattea vediamo che quanto più ci allontaniamo tanto più il livello di conoscenza diminuisce e è importante quindi avere la consapevolezza che le rappresentazioni che noi abbiamo quindi parte dal fatto noi sappiamo che Socrate partiva dal fatto della conoscenza di noi stessi quindi un elemento di cui noi non abbiamo piena consapevolezza è proprio le dinamiche che ci portano a prendere un certo tipo di decisione da cosa nasce qui cito un filosofo che è nice il quale appunto dice che l'uomo è un cavo teso tra la bestia tra l'animale e l'oltre uomo un cavo al di sopra di un abisso cioè in realtà noi ci troviamo dal punto di vista appunto del filosofo nice come se fossimo in transizione da una condizione a un'altra sopra il caos cioè sopra l'abisso quindi in una condizione oggettivamente difficile questa è la condizione che nice vede essere propria dell'uomo e quindi a questo punto è interessante cercare di capire che cosa la filosofia e la psicologia ci può insegnare e ci può aiutare a capire in termini che cosa siamo noi come persone e quali sono le nostre modalità comportamentali allora qui parto da una serie di considerazioni che ha fatto Donald Rumsfeld Rumsfeld è stato il segretario di Stato all'epoca di Bush Senior nel 2002 il quale ha parlato di non-knowns cioè praticamente di le cose che sappiamo di conoscere cioè ci sono delle cose nell'ambito di quello che noi facciamo e noi sappiamo che quelle cose le conosciamo e quindi questo rappresenta per noi un ordine quindi sappiamo per esempio gestire un flusso di lavoro a livello implanto protesico lo sappiamo lo sappiamo l'abbiamo appreso e quindi siamo in grado sappiamo in grado siamo in grado di poterlo espletare c'è però un altro aspetto che quello del non-unknowns cioè delle cose che noi sappiamo di non conoscere questo rappresenta dal nostro punto di vista il rischio quindi sappiamo che c'è un qualche cosa che noi non conosciamo e sappiamo di non conoscerlo e quindi rappresenta per noi un possibile rischio c'è un'altra categoria di cose che sono le cosiddette unknown unknowns cioè delle cose che noi non sappiamo di non conoscere questo è in qualche modo la definizione di caos e se noi se noi vediamo e analizziamo questa mappa no l'esperienza che abbiamo fatto insieme del covid vediamo che lo sviluppo del covid segue esattamente questo tipo di metrica il covid come sappiamo a febbraio gennaio febbraio del 2020 era un unknown unknowns cioè nessuno lo conosceva e nessuno sapeva di non conoscerlo quando poi si è manifestato nella sua forma caotica e abbiamo quindi conosciuto il virus del covid noi in qualche modo ci siamo confrontati con qualche cosa che sapevamo che esisteva quindi che rappresentava per noi un rischio ma che non sapevamo in qualche modo gestire attraverso poi la creazione del vaccino ecco che rientriamo nel non-nones quindi in qualche cosa che rientra in una condizione di ordine siamo in grado di poter gestire attraverso il vaccino il rischio rappresentato dal covid questo è quello che in realtà opera nell'ambito in cui noi come persone operiamo ma c'è un altro un altro elemento molto importante che gli unknown knowns cioè quello che sappiamo ma non conosciamo questi unknown knowns sono in qualche modo legati a un aspetto proprio della persona che è quello appunto del famoso inconscio noi grazie a persone come Freud e Jung che sono dei veri e propri navigatori dell'inconscio sappiamo sostanzialmente che esiste qualche cosa che è appunto l'inconscio che sta al di fuori della nostra conoscenza e della nostra consapevolezza e grazie proprio a Jung che ha identificato come esistono all'interno degli inconsci collettivi delle rappresentazioni culturali quindi delle rappresentazioni collettive che quindi sono di difficile articolazione ma che vengono in qualche modo rappresentate attraverso attraverso il mito attraverso l'arte e poi successivamente attraverso il racconto e la parola quindi attraverso l'aspetto della coscienza questo aspetto appunto degli unknown knowns rappresenta e può rappresentare una fonte di ispirazione che parte appunto direttamente dall'inconscio e quindi cerchiamo di capire in qualche modo qual è la psiche e vediamo che tipo di rappresentazione è stata data della psiche nella storia e partiamo sicuramente da Platone e quindi da Fedro che rappresenta la nostra psiche cioè la nostra mente come l'auriga quindi che in qualche modo guida due cavalli un cavallo bianco è un cavallo nero l'auriga è il logos cioè la nostra capacità razionale di tenere a bada quindi di controllare e di guidare eros che è il cavallo che porta l'uomo verso l'alto e timos che è il cavallo nero che porta l'uomo verso il basso timos la cupidigia eros invece l'aspetto spirituale questi sono aspetti che vengono in qualche modo e rappresentano la psiche l'altro aspetto importante che rappresenta un po' la modalità con cui noi pensiamo la nostra mente c'è stata data appunto da Jung il quale ha identificato come centro gravitazionale del nostro essere l'essenza che chiama appunto self distinta rispetto all'ego dove l'ego è l'io quello che noi in qualche modo conosciamo di noi stessi e che rappresenta diciamo l'aspetto che rimane costante nel tempo che in qualche modo rappresentato anche dal nostro corpo e che ci fa in qualche modo identificare e in qualche modo ci fa chiamare appunto noi stessi io ma c'è appunto un elemento che sta al centro che rappresenta l'essenza sostanzialmente della persona distinta rispetto all'ego e all'interno di questa sfera c'è una parte di ombra che in qualche modo deve essere conosciuta dall'individuo e in qualche modo integrata all'interno del proprio essere e poi Jung identifica degli aspetti che sono le personalità che l'ego cioè l'io crea in ambiente sociale piuttosto che non le caratteristiche del maschile e del femminile che rappresentano diciamo delle dinamiche che sono legate alla sfera invece più profonda della persona con questa ricerca Jung la ricerca quindi dell'essenza della persona sostanzialmente lui appunto dice che in ultima analisi noi contiamo qualcosa solo in virtù dell'essenza che incarniamo è un po' il concetto di daimon che ci è stato espresso da Socrate in quella lettura che abbiamo fatto e se non la realizziamo la vita è sprecata quindi ciascuno di noi ha una sua essenza un suo daimon interno e questo daimon deve essere in qualche modo espletato e realizzato ma la realizzazione di questo daimon rappresenta un viaggio un viaggio dell'eroe che viene appunto rappresentato ancora una volta in questo modo dove appunto la persona riesce a andare in profondità e quindi a entrare in contatto con la propria essenza a capire sostanzialmente la propria essenza e attraverso questo viaggio tornare poi nel mondo dei vivi nel mondo della realtà sociale che è appunto caratterizzata dall'ego ma un ego che in qualche modo viene a integrarsi con l'essenza della persona e tra l'altro Jung rappresenta questo viaggio attraverso questo mandala questa rappresentazione, questo disegno dove vediamo appunto un uovo che rappresenta appunto l'uomo che in qualche modo ricorda l'aforisma di Nietzsche quindi di qualcosa che deve nascere all'interno dell'uomo un punto, una corda, un ponte tra l'animale e l'oltre uomo attraverso appunto una rappresentazione che possa integrare l'essenza della persona con il proprio io questi sono aspetti che poi incarniamo attraverso il nostro corpo e quindi poi riportiamo attraverso l'esperienza e il comportamento nel mondo nel mondo reale come facciamo a tradurre queste rappresentazioni che la filosofia e la psicologia dà della persona? beh, vediamole e incarniamole in questi quadranti dell'essere questi quadranti identificano delle entità degli esseri che sono presenti nell'ambito del settore odontodiatrico vediamo da una parte il titolare di studio dall'altra parte il dipendente dello studio il consulente dello studio e l'imprenditore l'imprenditore che gestisce appunto una catena oppure un gruppo una clinica odontuiatrica queste sono le realtà che in qualche modo caratterizzano l'odontuiatria e chiaramente ciascuna di queste realtà è fatta di un modo di vedere le cose il titolare di studio ha a cuore la salute del paziente noi siamo portati a pensare che l'imprenditore anche se l'imprenditore è nell'ambito dell'odontodiatria abbia interesse il profitto al profitto così come il dipendente ha una modalità di pensiero di comportamento diversa rispetto al titolare di studio e così come il consulente che in qualche modo non deve gestire uno studio odontodiatrico ma che attraverso la propria competenza e la propria conoscenza sviluppa la propria attività ebbene questa all'interno di questo quadrante si sta inserendo un altro soggetto che è un po' il bravo dentista e bravo imprenditore cioè è un soggetto che in qualche modo coniuga due elementi che noi abbiamo visto in qualche modo distinti nel quadrante che sono l'interesse e l'attenzione alla salute del paziente e dall'altra parte l'attenzione all'approfitto e quindi all'organizzazione del lavoro questi due aspetti che quindi portano e creano una figura nuova del bravo dentista del bravo imprenditore sono caratterizzati e hanno un comune denominatore appunto una serie di scelte che si traducono in costi e che portano quindi il professionista ad orientarsi verso uno scopo piuttosto che un altro quindi l'aspetto dei costi rappresenta ancora una volta un elemento ancora più concreto rispetto a quella che può essere uno scopo di carattere diciamo personale che poi si traduce e si declina in delle scelte di investimento e di organizzazione del lavoro che poi avranno un impatto importante come possono averlo appunto i costi fissi quindi uno degli aspetti che come coach io appunto vi invito a riflettere è appunto è nell'ambito della vostra attività professionale e anche personale perché abbiamo visto che la dinamica professionale non è disgiunta da quella personale capire qual è il tipo di impegno sostanzialmente che voi investite nell'ambito del lavoro nell'ambito delle relazioni della salute e del vostro benessere in termini generali come vedete qui ci sono dei cerchi che hanno delle dimensioni più grandi io condividerò attraverso la chat un link magari lo faccio anche adesso in cui sostanzialmente vi do la possibilità di scaricare questo appunto questo 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 questa matrice che quindi vi darà la possibilità di poterla quindi qui trovate il link alla alla matrice quindi io quello che vi invito è di poter scaricare questa questo powerpoint un powerpoint che quindi rappresenta questa matrice che vi metta un po' in condizione di capire nell'ambito vostro personale quali sono gli equilibri tra queste quattro sfere che abbiamo identificato che sono quelle del lavoro del vostro benessere delle relazioni e della vostra salute questo è un elemento che praticamente ci aiuta a inquadrare all'interno di questa formula di gestione del cambiamento a incominciare a parlare appunto di personalità e quindi indirettamente anche di missione e di visione di studio quindi parliamo e qui introduciamo la parte di missione attraverso questa questa bella frase di Covey che dice che i nostri risultati dipendono dalle nostre azioni le nostre azioni dipendono dai nostri pensieri quello che noi pensiamo e vediamo è strettamente legato a ciò che siamo quindi non andremo molto lontano nel cambiare il nostro modo di vedere senza prima cambiare il nostro modo di essere quindi è evidente che il cambiamento passa attraverso un cambiamento del modo del modo di essere quindi noi cerchiamo a questo punto come prima cosa di capire in che modo siamo in che modo siamo organizzati e quello che noi possiamo subito dire e abbiamo anche capito un po' dalle immagini che abbiamo condiviso prima è che ciascuno di noi ha una parte visibile che è rappresentata dal tronco dai rami e dalle foglie ma c'è una parte invisibile che sta sotto il terreno ma che ha un'importanza e un'estensione paragonabile se non più importante di quella visibile noi però abbiamo la difficoltà di focalizzare la nostra attenzione sulla parte invisibile e per quale motivo perché in qualche modo siamo portati a focalizzare la nostra attenzione su quello che avviene al di fuori di noi abbiamo una difficoltà ad avere contestualmente anche la visione di chi siamo noi di come noi in qualche modo ci confrontiamo appunto con la realtà esterna noi quindi come in questa immagine rappresenta in modo efficace una possibile condizione ideale cioè quella di poter vedere attraverso uno specchio non soltanto la realtà esterna ma riflessa sullo specchio anche l'immagine di noi stessi questa capacità legata al ricordo di sé è una capacità che è molto difficile da raggiungere e quindi noi siamo molto più portati all'attenzione verso l'esterno ma dimenticando appunto l'osservazione di noi stessi quindi dobbiamo in qualche modo capire come mai questo tipo di condizione e quindi in qualche modo ci facciamo aiutare un po' dalle immagini di quella che è appunto la neurofisiologia che ci dice come il nostro cervello si è articolato in tre elementi il terencefalo il diencefalo e il tronco encefalico quindi sostanzialmente noi abbiamo in realtà tre tipi di cervelli abbiamo il cervello rettile il cervello che è quello appunto legato al centro istintivo il cervello limbico che rappresenta il centro emozionale e il sapiens il cervello neocorteccia che rappresenta invece il centro intellettuale attraverso questa tri-ripartizione esiste un'altra bi-ripartizione che noi conosciamo che è quella degli emisferi dove noi sappiamo che l'emisfero destro è dominante quando affrontiamo una sfida cognitiva nuova e l'emisfero sinistro invece è responsabile del nostro pilota automatico cognitivo quindi è quello che sostanzialmente ci mette in una condizione di abitudine mentale e quindi ci orienta verso un comportamento abitudinario di comfort e di diciamo di situazione di apparente ordine l'altro l'altra chiave per comprendere un attimo come siamo come noi come ci comportiamo è questa chiave che in qualche modo parte da diciamo la logica del trasmettitore e del ricevitore da una parte abbiamo il mondo le cose in sé che in qualche modo trasmettono attraverso la materia l'energia delle informazioni e noi attraverso i nostri sensi sostanzialmente sostanzialmente abbiamo la capacità di recepire queste informazioni e attraverso la nostra mente la nostra inconscio attraverso le generalizzazioni le cancellazioni e le distruzioni creiamo una mappa del mondo cioè ci creiamo una rappresentazione della realtà questa rappresentazione crea degli stati che possono essere appunto degli stati mentali e attraverso questi stati i concetti e quindi attraverso il linguaggio noi e quindi il comportamento noi siamo in grado di trasmettere quella che è la mappa che abbiamo acquisito attraverso la la ricezione delle informazioni della realtà sostanzialmente attraverso il comportamento noi riusciamo a creare un feedback e quindi attraverso la comprensione di questo feedback riusciamo quindi effettivamente a cambiare questa rappresentazione ci dice una cosa molto importante cioè ci dice che in realtà non esiste un'unica realtà ma che le realtà sono tante quante sono le persone perché ciascuna persona sviluppa la propria realtà e quindi queste realtà che creano delle mappe diverse non sono necessariamente delle mappe sbagliate ma che rappresentano una comprensione legata ai nostri filtri della realtà questa comprensione può essere anche molto diversa io qua vi rappresento questa immagine questa immagine appunto è un'immagine che può essere quella di un appunto di un coniglio se noi appunto valorizziamo il muso e l'occhio oppure quella di un'anatra se noi valorizziamo in questo caso il becco e ancora una volta l'occhio dell'anatra quindi ci sono due interpretazioni diverse di una stessa immagine che possono in realtà coesistere l'una con l'altra e quindi possono creare una rappresentazione della realtà che in entrambi i casi possiamo dire in qualche modo corretta quindi c'è sostanzialmente un aspetto che è quello che appare che è quello caratteriale che è quello di comportamento che sostanzialmente nasce attraverso la nostra personalità un elemento che abbiamo visto essere profondo legato all'essenza alla nostra essenza ma che condiziona i nostri comportamenti quindi noi a questo punto vogliamo studiare e capire in che modo possiamo definire e rappresentare la nostra personalità come lo facciamo lo facciamo e lo faremo attraverso il MBT il Myers Briggs Type Indicators praticamente è un un indicatore che in qualche modo può aiutarci a capire che tipo di personalità abbiamo questo indicatore nasce dal lavoro sviluppato da Jung sui tipi psicologici e integrato poi successivamente dai suoi allievi che hanno sviluppato appunto una metrica che possa aiutare le persone a capire che tipo di personalità hanno questa metrica è quella che si è sviluppata dopo la seconda guerra mondiale negli Stati Uniti ed è utilizzata ancora oggi in modo molto importante a livello aziendale e organizzativo per capire all'interno di un gruppo le caratteristiche comportamentali o i tratti comportamentali delle persone ed è quello che io in qualche modo voglio in qualche modo presentarvi come funziona questo questo tipo di metrica funziona attraverso la rappresentazione di quattro variabili una abbiamo vista in qualche modo all'inizio è l'estroversione e l'introversione dove l'estroversione abbiamo visto essere in qualche modo rivolta verso l'esterno e l'introversione rivolta più verso l'interno e sono diciamo dei tratti che caratterizzano il comportamento generale della persona accompagnato da due elementi che sono appunto il tipo giudice il tipo percettivo che invece indicano la modalità decisionale della persona il tipo giudice ha una modalità legata alla diciamo all'organizzazione e alla alla pianificazione il tipo percettivo invece ha una modalità decisionale legata più all'aspetto di spontaneità e di flessibilità queste due dimensioni l'estroversione e l'introversione il giudice e il percettivo pongono in gioco delle funzioni cognitive che sono queste altre due funzioni che sono la sensoriale l'intuitiva quella legata al pensiero e quella legata ai sentimenti che in qualche modo condizionano praticamente i processi cognitivi delle persone quindi quello che noi sostanzialmente faremo io sostanzialmente condividerò con voi questo schema che è uno schema che rappresenta appunto questi tratti l'estroverso l'introverso la sensazione l'intuizione il pensiero il sentimento il giudizio e la percezione come vedete c'è una scala da 1 a 100 e quindi ciascuno di noi avrà la possibilità di capire dove si posiziona all'interno di questa scala se più verso l'estroverso verso l'introverso la sensazione l'intuizione il pensiero il sentimento il giudizio e la percezione come faremo a identificare e a inserire questo tipo di comprensione attraverso un questionario di cui io vi lascerò il link all'interno della chat quindi ve lo lascio subito in modo tale che così arriviamo a definire anche le condizioni di questa attività che è un'attività che vi chiedo di svolgere poi chiaramente al di fuori di questo contesto eccolo qui abbiamo il Myers-Briggs type invia quindi copia perfetto ecco allora qui sempre nella chat vi ho inserito praticamente il questionario questo è il questionario sostanzialmente Myers-Briggs type indicator che affronta i temi dell'estroverso verso l'introverso piuttosto che non sensitivo intuitivo pensiero sentimento e per finire giudizio e percezione quello che appunto farete compilite questo questionario quindi in sostanza il questionario ci sono appunto delle domande a cui facciamo esempio di da dove attingi quello che comunichi da quello che succede fuori di te o da quello che succede dentro di te la seconda dimensione quella sensitiva per esempio è nell'affrontare la realtà ti riesci più spontaneo prestare attenzione ai dettagli e ai fatti o cercare di capire le connessioni il significato e le implicazioni altre domande esempio di domanda sul sentimento pensi che in te predomini la componente logica e analitica o quella sensibile ed empatica e quella percezione giudizio percezione tendi ad essere veloce e sicuro nel prendere divisioni oppure dover prendere delle divisioni tende a renderti ansioso e insicuro quindi questo questionario ci aiuterà in qualche modo a identificare degli acronimi che in qualche modo ci aiuteranno a comprendere sostanzialmente quelle che sono le caratteristiche comportamentali di ciascuno di noi quello che noi faremo vedremo che avremo delle funzioni una funzione primaria una funzione secondaria terziaria e terziaria di pressa e quindi analizzeremo le funzioni primarie e secondarie secondo una logica che è quella appunto dell'automobile dove la funzione primaria è quella che noi utilizziamo in via diciamo principale appunto è il guidatore la secondaria è il copilota quindi è la funzione che noi utilizziamo a supporto di quella primaria e praticamente la terziaria e la repressa sono delle funzioni che sono diciamo più meno sviluppate rispetto alle prime due quindi questa è un'analisi importante che noi andremo a fare perché ci permetterà di capire quale temperamento abbiamo a livello comportamentale vedremo che appunto ci sono dei comportamenti dei temperamenti specifici e vedremo appunto poi arriveremo a capire anche sostanzialmente a seconda di queste acronimi appunto arriveremo appunto a capire in quali di queste di queste categorie alcuni personaggi conosciuti meno conosciuti si trovano e quindi a capire sostanzialmente che tipo di attenzione ai nostri comportamenti possiamo avere perché è importante perché ho voluto in questa prima fase che è legata alla gestione del cambiamento affrontare questo tema il tema è molto importante e voglio in qualche modo qui fare riferimento a un fatto di cronaca che è accaduto nel 2016 che come vi ricordate coinvolse Cambridge Analytica e Facebook che cosa è successo nel 2016 all'epoca della campagna elettorale di Trump se vi ricordate Cambridge Analytica sviluppò una campagna su Facebook che in qualche modo mirava attraverso un questionario a conoscere la personalità degli elettori americani e in base alla personalità di questi elettori veicolare un messaggio che potesse portare la persona a votare chiaramente Trump cosa che effettivamente accadde nel senso che questa campagna fu effettivamente gestita se vi ricordate ci furono una serie di polemiche anche di infiltrazioni e di accheraggio ma che furono poi in qualche modo portate alla luce questa campagna e rese pubbliche fino a quando appunto se vi ricordate Cambridge Analytica fallì come azienda quindi chiuse un'azienda inglese chiuse e Facebook se vi ricordate perse quasi il 30% del suo valore dell'azione perché appunto fu chiamata a rispondere di alcuni comportamenti lesivi della privacy delle persone quindi per dirvi che cosa per dirvi semplicemente che evidentemente la nostra personalità e la consapevolezza che noi possiamo avere della nostra personalità e del rapporto che c'è tra la nostra personalità e la nostra intelligenza e quindi le nostre conoscenze ci può aiutare a capire come ottimizzare il raggiungimento di uno scopo che in qualche modo abbiamo e vogliamo raggiungere quindi questo è diciamo la fase che noi in qualche modo andremo a mettere a fuoco noi adesso siamo alle 10.30 quindi io sono in chiusura di questo primo incontro dove appunto vi richiedo ancora una volta di accedere alla chat e quindi attraverso la chat di poter scaricare la matrice delle quattro sfere che in qualche modo impegnano la vostra attività e attraverso il secondo link di poter accedere ad un questionario che in qualche modo vi permette di poter poter identificare e studiare la vostra la vostra la vostra appunto la vostra personalità io vorrei a questo punto sostanzialmente salutarvi quindi in qualche modo vi ringrazio dell'attenzione che mi avete voluto dare in questo primo incontro un incontro che ripeto ha poggia sull'aspetto della personalità e che richiede un'attività di lavoro da parte vostra io sono chiaramente a disposizione attraverso la mia email e qui scrivo anche la mia email a tutti quanti voi nel caso in cui non non l'abbiate eventualmente a rispondere e a darvi ulteriori informazioni ma appunto vi rimando a due settimane tra due settimane partiremo proprio dalla considerazione di quelli che sono gli aspetti della personalità che avete in qualche modo potuto valutare attraverso l'analisi del questionario grazie della vostra attenzione e ci sentiamo e ci aggiorniamo tra due settimane grazie e a presto grazie